Ciao a tutte e benvenute. Questo è cosa mangi in un giorno. A colazione una bella spremuta di arancia con dei pancake che se voglio farcisco con la marmellata. A pranzo invece mi sono preparata i ravioli, quelli tortelloni, gorgonzola, dopo e noci. Li ho cotti nella pentola, la cottura è solo di 5 minuti, per cui abbastanza rapida, e li ho farciti con un sughetto, quello fresco e funghi porcini. Ho usato per scolarli questo scolapasta che mi ha regalato mia cognata, è molto comodo perché si richiude e poi si apre anche perfettamente, rimane ben aperto. A volte questi prodotti in silicone poi danno problemi, invece no. Perfetto, ho mischiato la mia pappa e poi l'ho impiattata. Ed ecco qua il risultato. Miam, un piattino goloso, goloso. A merenda invece, siccome tutto questo è quello che mangio durante una giornata in cui non lavoro, quindi sono di riposo, mi sono fatto un tè, un Twinings, questo English Breakfast Tea, praticamente lo lascio riposare tra i 3 e i 5 minuti in acqua calda, lo lasciamo riposare così finché si diffonde tutto il suo aroma, e poi me lo sono gustata insieme all'ultimo pacchetto di quegli Oro Saiva senza glutine che mi era arrivato. Di cena, invece, mi sono fatta una zuppa di verdure dell'orto. L'ho cotta in questa pentola tipo coccio, così che mi ha dato mia mamma. Quindi ho aggiunto dell'acqua, il dado vegetale che faccio io, l'ho portata a cottura, verso la fine ho aggiunto anche del concentrato di pomodoro. E questo è il piattino. Ciao! Ciao!